Ogni anno al Gaslini curiamo con il trapianto di midollo osseo molti bambini affetti da gravi forme di leucemia o di altre malattie del sangue del sistema immunitario altrimenti inguaribili. La maggior parte arriva da altre regioni d'Italia e dall'estero, luoghi che non dispongono delle competenze e delle strutture necessarie per eseguire questa procedura estremamente complessa, costosa e impegnativa sia per gli operatori che per i pazienti e le loro famiglie che sono spesso costrette a lunghi periodi lontani da casa. Il Gaslini da oltre 30 anni è un punto di riferimento in questo campo ma l'eccellenza richiede molte risorse, continui investimenti sulla ricerca, l'aggiornamento e il rinnovamento umano e strutturale. Tutti possiamo contribuire, poterlo fare divertendosi è ancora più bello per questo vi invito a venire domenica mattina 23 dicembre al Porto Antico di Genova per la seconda camminata dei Babbi Natale organizzata dagli amici di My Trekking a favore del Gaslini. L'anno scorso eravamo 1300, quest'anno vogliamo essere molti di più, una lunga striscia colorata lungo le strade di Genova per sostenere l'attività di trapianto di midollo all'istituto. Grazie. 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 Grazie.